Amareggiato, piegato ma non sconfitto. Si presenta così Tiberio Bentivoglio ieri pomeriggio in prefettura per tirare le fila di quanto accaduto. Vuole giustizia, ma soprattutto vuole che nessuno debba passare più per ciò che ha vissuto lui. Non vogliamo mollare, vogliamo rimanere sul territorio sempre più forti, però chiediamo che la giustizia sia più veloce, sia più autentica, più vera. Abbiamo bisogno di una certezza di pena, abbiamo bisogno che i processi finiscono nei tempi utili e giusti prima di arrivare alle prescrizioni. Sta per iniziare un processo, in questi giorni mi è stato notificato, dopo nove anni che ho denunciato è già prescritto. Non è inutile continuare su questa fascia, bisogna essere più energici, come lo sono loro. Anche con più determinazione e con più fermezza, sapendo la fine che dovevo fare, sarei stato più duro e più efficace anche con gli organi politici e anche istituzionali di diverso genere. Alcuni momenti sì, mi sento tanto solo. Speriamo che non avvenga più per nessuno, non solo per me.